buongiorno a tutti e bentornati sul canale bentornati ad accade oggi settima puntata buon giovedì a tutti e buon 7 gennaio a tutti ricordo sempre di condividere sui social taggarmi sempre uguale accade oggi devo fare una sigla per questa serie perché mi sembra che vi piace quindi devo cominciare a studiarmela un po se avete consigli scriveteli qua sotto più immagini meno immagini più questo più quello più meno vabbè accadeva il 7 gennaio 1536 muore caterina d'aragona prima moglie di enrico ottavo d'inghilterra nella lettera di dio di addio al marito che la ripudia ripudiata scrive infine io faccio questo voto che i miei occhi desiderano più di ogni altra cosa il 7 gennaio 1610 l'astronomo italo l'astronomo italiano galilo galilei grandissimo scopre le tre lune del pianeta giove alle quali rifacendosi alla mitologia greca verranno attribuiti i nomi di callisto europa e io tre amanti del dio giove era invece il 7 gennaio del 1797 la bandiera tricolore viene proposta quale simbolo della repubblica cispadana da giuseppe compagnoni durante un congresso in un salone del municipio di reggio miglia quale telecamera da guardare quella che il 7 gennaio 1924 invece il 26enne george george completa l'orchestra di rap sodi in blu di sua composizione il 7 gennaio 1969 nasce la trasmissione chiamate roma 31 31 condotto da gianni buon compagni franco mocagatta e federica taddei il primo programma radiofonico italiano l'intervento degli ascoltatori in diretta radiofonica con l'intervento di potevano chiamare in diretta l'ultimo fatto accaduto oggi 7 gennaio era il 2002 lo stilista e one sangue la rente ivessa loran annuncia ritiro della moda dal mondo nell'alta moda e la chiusura della famosa maison di avenue marseille a parigi ecco francese ci siamo ma veniamo ora ai nati oggi oggi non ricordarmi di mettere bene se vignetta allora era il 7 gennaio 1944 che mi nasceva bernadette subiro di lourdes santa madonna di lourdes 7 gennaio 1845 mi nasceva ludovico terzo re di baviera 7 gennaio 1952 mi nasceva giuliano ferrara giornalista e conduttore tv 7 gennaio 1964 invece mi nasceva nicolas cage grande attore la città degli angeli via da las vegas 8 mm e face off lo sto leggendo il 7 gennaio 1969 mi nasceva marco simone ex calciatore allenatore e dirigente sportivo 7 gennaio 1983 invece mi nasceva matteo taglia roll schermitore spada oro olimpico dal 2008 e 7 gennaio 1985 mi nasceva louis hamilton pilota sette volte campione del mondo di formula 1 bene anche questa puntata di accade oggi si conclude qui siamo arrivati a sette puntate di fila bene questo video è un po più corto perché dovrei riuscire a farlo un altro su un film che ho visto quindi preferivo farlo un pelino più corto noi ci vediamo in un prossimo video lasciatemi un bel mi piace iscrivetevi ai canali e condividete ciao a tutti e un prossimo video ciao a tutti e un bacio a tutte